L'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna dedica il mese di aprile alla salute delle ossa delle donne italiane, coinvolgendo tutti gli ospedali del network Bollini Rosa. La clinica Malzoni di Agropoli aderisce all'iniziativa che mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e dell'adozione di stili di vita corretti. Centro di eccellenza a livello nazionale nel campo dell'ortopedia, la struttura campana apre le porte a visite gratuite mettendo a disposizione dei pazienti interessati il proprio staff di esperti. Il personale specializzato del reparto di ortopedia della struttura di Agropoli sarà a completa disposizione delle donne interessate per due giornate interamente dedicate alla prevenzione. Porte aperte quindi per visite ortopediche gratuite nei giorni 11 e 18 aprile dalle ore 9 alle ore 17. Nel pacchetto di visite potrà essere inclusa anche un'analisi specifica con ultrosonografia. Per accedere al consulto gratuito basterà telefonare al numero 0974 85 3280 centro unico prenotazioni e prenotare la propria visita.